Premi il tasto Home sul telecomando e muoviti verso il basso all'interno della Home fino alla sezione Help. Oppure premi il tasto App TV sul tuo telecomando e seleziona l'icona Help. Mentre stai guardando un programma puoi anche premere il tasto punto di domanda e muoverti verso destra per entrare velocemente nella sezione Help.